Salve, sono Alessandro Bartoli della Bosch King by the Empoli. Noi che siamo gli specialisti della bicicletta invisibile, la famosa Bosch Windstar con il motore Vivas invisibile, adesso debuttiamo per l'anno 2019 con queste biciclette che stiamo già provando da gennaio, praticamente le Bosch Dinamite. La Bosch Dinamite che cos'è? La Bosch Dinamite è la bicicletta a pedalata assistita già con il motore Polini. Che cos'è il motore Polini? Attualmente il motore Polini è il motore più innovativo nell'ambito delle bike. Noi che siamo centro assistenza Bosch, Shimano, Yamaha e abbiamo fatto anche la Bosch con il motore Fasua e Bation, come hanno fatto molti dei nostri concorrenti, e cosa abbiamo fatto noi? Solamente un altro marco in Italia monta il motore Polini, però fanno un telaio di alluminio soltanto. Noi siamo riusciti anche a fare il telaio in carbonio su misura, carro basso, superleggero in carbonio, e per di più gli abbiamo montato all'interno il motore Polini e la batteria integrata da ben 500 VH. 500 VH che per un motore così potente e così parsimonioso nell'autonomia, vuol dire che qui si possano fare veramente delle belle girate in bicicletta di quasi 150 km veri, ovviamente non alla massima assistenza. Però per darvi un termine di paragone, il Bosch nella funzione turbo fa circa 20 km, il Polini nella funzione turbo, ovvero sia, non si chiama turbo, ma è la quinta marcia, quella che loro fanno nel missile, riesce a fare 40 km e nella funzione normale si riesce a fare più di 100 km. Detto questo, che dirvi? Per saperne di più, venite a trovarci alla Bosch in Bike di Empoli, un ciao da Alessandro.